Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di TV City. In primo piano oggi, primo ottobre, la riapertura delle scuole a Torre del Greco, ma anche in altri comuni vicini. Non sono mancati i messaggi di incoraggiamento dei sindaci. Restiamo in tema. Questa mattina con le nostre telecamere abbiamo ascoltato la dirigente dell'Istituto Sauro Morelli di Torre del Greco. Sarà un anno difficile, ha detto la preside Di Lorenzi. Ognuno deve fare la propria parte per garantire una ripresa in serenità e sicurezza. Spazio anche alla cronaca. Noto ristorante di Napoli sequestrato per bancarotta fraudolenta. Le indagini della Guardia di Finanza hanno consentito di far luce sul dissesto della società. Torniamo poi a Torre del Greco. Passa nell'ultimo consiglio comunale la proposta di riduzione della Tari per i titolari di Bed and Breakfast del territorio. Un impegno preso dall'ente nel corso di una trasmissione di approfondimento della redazione di TV City. In chiusura la presentazione ieri sera al circolo nautico degli ultimi due libri dell'artista torrese Pina Radicella. Questo mattina, primo ottobre, riaprono gli istituti scolastici in molti comuni della provincia di Napoli. Dopo i vari rinvii da parte dei sindaci e l'attesa durata sette mesi a causa del lockdown, oggi finalmente si torna tra i banchi di scuola. Non è mancato il messaggio del sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, che scrive «Sarà un anno certamente complesso e singolare per le note vicende legate alla diffusione del Covid-19, ma anche un nuovo anno ricco di sfide e di traguardi da raggiungere ed ottenere, con sacrificio e attraverso il percorso educativo dello studio. Il mio personale augurio ai dirigenti scolastici, al corpo docenti e a tutti i giovani, perché vivano con la serenità e con l'entusiasmo che li caratterizza, ciascuno per il suo ruolo, questa nuova vincente esperienza». Un augurio anche dal primo cittadino di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione. Il sindaco ha chiesto responsabilità da parte di tutto il personale scolastico. È inutile nascondervi che c'è una certa preoccupazione, soprattutto in virtù dell'improvvisa impennata di contagi, che da diversi giorni si sta registrando in campagna. Le difficoltà sicuramente non mancheranno, prosegue. Ma per ora bisognerà convivere con questo subdolo virus, abituandoci a nuovi stili di vita, almeno fino a quando non ci sarà un vaccino. Ed è proprio per questo che occorre che ci sia da parte di tutti massima collaborazione, responsabilità e rispetto nelle misure vigenti. Anche a Castellammare, il sindaco Gaetano Cimmino ha dedicato agli studenti una lunga lettera di speranza. Godete, con un sorriso che celato dalla mascherina, si riveli però nei vostri giovani occhi, dei compagni, del personale scolastico, delle lezioni, dei docenti, dei rimproveri e delle lodi, di tutto ciò che rende magnifica la nostra scuola ed il contatto umano, indipendentemente dal metro di distanza. Suona la campanella nelle scuole di Torre del Greco. Questa mattina siamo stati con le telecamere di TV City all'istituto comprensivo Sauro Morelli per intervistare la dirigente scolastica Lucia Di Lorenzi, sull'avvio dell'anno scolastico. Quali sono state le sue emozioni al suono della campanella? Devo dire, emozioni molto forti. Era un giorno molto atteso, anche più volte rimandato. Adesso finalmente i ragazzi bambini, i ragazzi della scuola secondaria e primo grado sono entrati. Oggi solo le prime classi e i bambini di tre anni, perché chiaramente dobbiamo sondare l'organizzazione, illustrare ai genitori i percorsi e quindi abbiamo organizzato le classi prime per oggi e poi domani le altre classi. Devo dire che il primo giorno è andato bene. C'è un'emozione molto forte, si sente, sono emozionate le docenti, i genitori, i bambini stessi e anche la dirigente. Siamo riusciti a organizzare questa accoglienza all'esterno e quindi consentire ad esempio ai bambini di tre anni la presenza dei genitori. Quindi questo primo incontro, perché è il momento anche più delicato, l'accoglienza ai bambini di tre anni avvenisse in serenità e con la presenza dei genitori. Per le classi primarie e secondaria, anche devo dire, l'organizzazione ha funzionato, i genitori hanno potuto accompagnare. Abbiamo ovviamente adottato degli orari scaglionati, dei percorsi differenziati e ci auguriamo appunto che con la collaborazione di tutti, dei genitori che dovranno misurare la temperatura, dovranno rispettare gli orari, dei docenti che dovranno far comunque rispettare le regole di sicurezza e l'organizzazione che ci siamo dati, le cose funzionino e insomma si potrà venire a scuola in serenità. Che anno scolastico sarà secondo lei? Sicuramente un anno scolastico diverso, più complesso nella gestione. Siamo consapevoli che il rischio zero non esiste, però possiamo notevolmente abbassare l'indice di rischio con comportamenti corretti, rispettando tutte quelle regole che sono appunto il distanziamento, la sanificazione delle mani, indossare i dispositivi di sicurezza e anche e soprattutto è importante che ci siano comportamenti responsabili, che insomma i bambini o anche il personale che avesse dei sintomi si resti a casa e insomma si sottoponga ai controlli medici. Il suo istituto, quali misure di prevenzione ha adottato? Fondamentalmente l'adozione dei banchi in monoposto, col distanziamento dei bambini e dell'insegnante, percorsi e poi severi protocolli di sanificazione. Ci siamo dotati per la pulizia di macchinari che consentono la pulizia più veloce e più approfondite. Un messaggio a tutti i ragazzi che oggi si apprestano a iniziare l'anno scolastico? La loro freschezza e la loro ingenuità comunque magari gli fa vivere con maggiore leggerezza, perché è giusto anche che i ragazzi abbiano i loro primi giorni di scuola e vivano la scuola con serenità. Certo dovranno rispettare delle regole, è anche giusto che la didattica abbia il suo rilievo che i ragazzi hanno dopo molti mesi di didattica a distanza, che pure ha avuto i suoi pregi, la sua funzione, possano riprendere una didattica in presenza, come devo dire, piena, importante, per raggiungere gli obiettivi formativi che la scuola si propone per loro. La Guardia di Finanza di Napoli ha denunciato per bancarotta fraudolenta sette persone, è sequestrato il noto ristorante Reginella, conti correnti, quote societarie e tutti i beni immobili e immobili della società che lo hanno gestito. Le indagini hanno permesso di fare luce sul dissesto finanziario della società, dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli con sentenza emessa lo scorso gennaio. Il complesso meccanismo architettato dagli amministratori consisteva nell'utilizzo di una serie di società filtro, intestate a prestanome compiacenti, che si sono avvicendati, solo sulla carta, nella gestione del ristorante e che avevano come unico scopo la massimizzazione dei profitti. In particolare, le fiamme gialle hanno ricostruito che gli indagati avrebbero utilizzato intestatari fittizi, in modo da rendere più difficoltoso l'esercizio dell'azione penale o azioni di responsabilità in sede civile, accumulando nel tempo un debito pari a quasi 1,5 milioni di euro. In buona sostanza, l'esercizio dell'attività di ristorazione non avveniva ad opera della società, che ne deteneva il complesso aziendale, ma attraverso quelle che ne divenivano solo formalmente affittuarie, in modo da sottrare alla massa fallimentare i beni aziendali e il locale di via Posillipo. Il noto ristorante sarà ora gestito da un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale, per assicurarne la continuità aziendale e la tutela dei posti di lavoro. Approvata nell'ultimo Consiglio Comunale, la riduzione del 30% sulla tariffa Tari per i titolari dei BNB a Torre del Greco. Durante il lungo periodo di lockdown, il settore turistico ha subito un grande calo economico, che ha portato molti BNB a casa e vacanza a chiudere i battenti. Per questo motivo il Comune Editore del Greco si è attivato per venire incontro agli imprenditori del comparto turistico. Un traguardo raggiunto grazie all'impegno del dirigente del settore Tributi del Comune Editore del Greco, Gennaro Russo, su proposta dal Consigliere Comunale Tommaso D'Ambrosio e dall'Assessorato delle Attività Produttive. Argomento discusso nel corso di una trasmissione di approfondimento della redazione di TV City, durante la quale il dirigente Russo assicurò che entro l'anno il Comune Editore del Greco avrebbe provveduto alla modifica delle tariffe per i BNB. Si è provveduto a rimodulare, per effetto di uno dei decreti che si sono succeduti negli ultimi mesi, a rimodulare le tariffe per questo tipo di attività che hanno subito danni dalla chiusura Covid, mediante una rimodulazione delle tariffazioni tari, ripeto, in via eccezionale per il 2020. Sicuramente entro l'anno provvederemo ad apportare questa modifica. Me ne assumo ovviamente le responsabilità tecniche. Notizia accolta già con favore dal titolare del BNB Villa Viuli, Ernesto Pisce. L'impegno preso dal Dottor Russo ci fa particolarmente felici perché questa è una battaglia che abbiamo intrapreso ormai da tre anni. Una storia di coraggio e determinazione. Un racconto che tocca il cuore e incoraggia ad uscire dal silenzio ed affrontare il proprio dolore. Ieri sera al Circolo Nautico di Torre del Greco la presentazione dei libri, il peso dell'esperienza e pillole di coraggio da Casa Piuccio. della scrittrice e pianista torrese Pina Radicella. Una serata all'insegna della musica, ma anche un momento importante per parlare dei disturbi del comportamento alimentare, alla presenza di autorevoli relatori. Pina Radicella, artista poliedrica di Torre del Greco, stasera alla presentazione delle sue due ultime opere qui al Circolo Nautico. Era una serata all'insegna della musica e della cultura. Come nascono questi due libri? Ma intanto questi due libri sono il frutto di un lungo percorso, anche di un calvario se vogliamo, perché il titolo soprattutto di uno, il peso dell'esperienza, è emblematico. Deriva dalla mia esperienza appunto di ex anoressica, ex bulimica. Io ho sofferto di tutti i disturbi del comportamento alimentare, che ho cercato di sintetizzare, sperando di esserci riuscita, in quest'opera. E poi c'è all'atere un altro lavoro, un'altra fatica, intitolata Pillole di coraggio da Casa Piuccio, dove affronto temi estremamente sociali, come l'amore e l'amicizia, in chiave decisamente innovativa. Quindi io sono una che vive sempre fuori dalle righe e spero di esserci riuscita anche in questo senso. Attraverso la scrittura, attraverso l'arte, anche la forza di ritrovarsi e di affrontare queste difficoltà? Di affrontare queste difficoltà, ma soprattutto di metterle al servizio del prossimo, perché io ritengo che la sofferenza, ma l'esperienza in genere, vada capitalizzata e quindi vada messa veramente al servizio di chi ne ha bisogno. Quindi è un messaggio forte che arriva stasera attraverso questa iniziativa? Un messaggio forte che è coadiuvato da interventi musicali che servono proprio a stemperare questa forte componente, perché parlare di anoressia, parlare di bulimia è un tema serio, ma noi cerchiamo di renderlo in maniera ludica proprio per esprimere, per far arrivare il messaggio che da queste difficoltà, da queste malattie, chiamiamole con il loro nome, si può tranquillamente uscire con tanta forza di volontà, tanto coraggio, ma anche trovando le persone giuste, le figure giuste e io le ho trovate. Bisogna tenere presente che il disturbo del comportamento alimentare è un disturbo doloroso, qualcosa che mette la persona a contatto con un grande dolore, un grande dolore interno, quindi sicuramente è un discorso che va affrontato in equip. Ci sono varie figure professionali che devono interfacciarci fra di loro per poter dare una risposta congrua alla persona che abbiamo di fronte. Dal punto di vista mio come professionista io penso che c'è bisogno di una grande capacità di ascolto, più che di una fase di prescrizione, di grammatura, ma tentare di capire come la persona può essere portata a un approccio più salutare al cibo. Come capire quando è necessario rivolgersi al medico, allo specialista? La prima cosa è il peso, il peso in eccesso e in difetto che pone la persona in difficoltà e quindi la porta generalmente presso i nostri studi. Stasera anche il racconto di un'esperienza, di una testimonianza che lei ha seguito da vicino. Sì, io ho seguito Pina, infatti c'è un'introduzione mia al suo libro proprio perché l'ho seguita nella fase della bulimia, sostanzialmente nella seconda fase e quindi abbiamo fatto questo percorso insieme e devo dire al momento con bei risultati Pina è una donna di grande coraggio. È importante per noi psicologi capire la natura del disturbo alimentare e come ho già detto in altre occasioni è come se noi ragionassimo di un qualcosa coperto dalla cenere e però sotto noi non sappiamo cosa copre questa cenere. Di fatto però sappiamo che c'è qualcosa, quindi dobbiamo scoprire quel qualcosa che cos'è. Tutto nasce dalla mente, da un forte disagio interiore. Alla base c'è sempre un evento traumatico o c'è un disturbo nell'accettazione del proprio schema corporeo che porta a un disagio e che porta ad uno squilibrio rispetto a ciò che è il cibo, ciò che il cibo produce come endorfino, come piacere e quindi come se poi il cibo diventasse una sorta di anestetico che ti protegge da tutto il dolore, da tutti i dolori e da tutte le angosce. Questi disturbi colpiscono soprattutto i giovani? In un primo momento abbiamo avuto una problematica più a sfavore delle donne e poi successivamente anche dei giovani. Il corpo sta diventando più della mente, più dello spirito, forse più importante rispetto al fatto che è più facile apparire che non essere. Diversamente noi lavoriamo perché le persone debbano essere e perché il corpo è un qualcosa che ci porta ma profondamente noi abbiamo un'anima e quella va coltivata, quella va protetta. È sempre meglio proteggere l'essere piuttosto che l'apparire. Grazie a tutti per la cortese attenzione, per info e contatti, la mail redazionechiocciolatvcity.it Appuntamento a domani per una nuova edizione aggiornata del nostro Tg. Grazie a tutti.